gioco caccia i trofei riprendiamo dove avevamo lasciato ieri red dead redemption 2 e all'online nello specifico visto che appunto stavamo facendo l'online a Ok Bene bene Sì Grazie. 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 Voglio chiudere la porta? Grazie. 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 I'vanokli i'vano. I'vano chiamarli. Grazie. Grazie. Ce n'ai non bisogno. Nenai tutte queste pezzi. c'è una famiglia all'interno di San Denis. Puoi portarmi là? Ho qualcuno che posso stare con. Questa sera va meglio sembracere i fatti miei. Un bel che c'è un'fasso. Un'fasso. C'è un'fasso! Un'fasso! I've got a good mind to round up a posse come hunt the rest of them down it won't stop nope good morning Buongiorno. Right, ok. Nearly there now. You're doing me right. Thanks for this. Here, us independents gotta watch out for each other, eh? Here we go. Grazie a tutti. 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 I, uh... Butcher freak, I called. Grazie a tutti. Non mi ricordo quanto lontano era. I, uh... 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 Grazie a tutti. 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 per assicurare un passaggio sicuro fino ad O'crae's run. Ho spero che non devi sottolineare a più grandi persone, ma è ok per essere pagato, certo? Grazie a tutti 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 Quindi? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti